Ciao a tutti, sono Giorgio Bronzini, da quest'anno sarò il responsabile per l'Under-19 del Rugby via Dana e come obiettivi di squadra sicuramente dopo due anni di stop a causa del Covid andremo a rinforzare e migliorare quelli che sono gli aspetti tecnico-tattici del nostro sport tramite il divertimento. Come obiettivi personali? In primi sono molto contento che la società abbia voluto investire su uno staff giovane e sono molto contento perché siamo stati tutti giocatori delle giovanili del Rugby via Dana, quindi penso che questo sia un aspetto fondamentale per poter trasmettere quelli che sono i valori e la passione per il nostro club. Ciao a tutti, sono Juan Wagenfai, alleno l'Under-19, gioco a Rugby via Dana e quest'anno anche il capitano della prima squadra, quindi molto contento. Prima di tutti fare crescere i ragazzi che cominciano a trovare anche piacere di stare in gruppo e stare tra di loro perché alla fine questa è una casa, una seconda famiglia, quindi mi piace che si trovino bene qua. Ovviamente io farò l'allenatore Tusch, voglio che cominciano a capire che anche da Conquista e dalle Mischi e tutte queste cose è molto importante il gioco, quindi approfittare questo punto. Ciao a tutti che hanno aprili qui della prima squadra del Rugby via Dana, a gioco 15 o 10. Quest'anno alleno l'Under-19, alleno nei skills, nell'abilità individuale, allora praticamente il mio obiettivo è quello di aiutare un ragazzo che ha una difficoltà, una certa cosa, tipo un passaggio da sinistra verso destra, è proprio da riniziare da capo. Allora il mio obiettivo è proprio di svilupparli sulle cose basi per poi migliorare su quello. Grazie, ciao. Ciao, sono Pietro Ricchio e sono il preparatore dell'Under-19. Io gioco mediano di mischia Uala per il Via Dana. Questa stagione è dare una piattaforma ai ragazzi per poter crescere fisicamente e poter performare in campo e seguirli e dargli tutto il sostegno possibile perché poi in campo riescano a dare il massimo. Per la squadra sicuramente crescere è un po' stare un lavoro che poi potrà essere utile a loro quando saliranno in categoria e poi credo che l'obiettivo principale sia comunque riuscire a vincere in campo. Pietro Gregorio, giocatore della rugby via Dana e da quest'anno allenatore dell'Under-19. Il mio obiettivo è quello di imparare il più possibile da questa esperienza e di migliorare come allenatore e cercare di portare consapevolezza nei ragazzi l'opportunità che hanno tutte le volte che scendono in campo per allenarsi o per giocare una partita. Spero che quest'anno sia un anno ricco di soddisfazioni, soprattutto dopo questo lungo periodo di stop dovuto alla pandemia e noi come staff cercheremo di accompagnare i nostri ragazzi al meglio in questo loro percorso di crescita. Ciao! Ciao, sono Claudio Bamboa e questo anno lavorerò sulla mischia dell'Under-19 e dell'Under-17. L'obiettivo di questo anno sarà lavorare sul sviluppo della mischia in tutte e due squadre.